Adriano Solai, come si governa questo fenomeno rispetto al quale ovviamente non ci saranno rinvii in una parola? Partiamo da un assunto, la Sardegna nel suo statuto speciale è competente alla distribuzione, alla produzione e alla distribuzione dell'energia. È una nostra competenza concorrente e da questo dobbiamo partire, nel senso che dobbiamo dare noi, attraverso una agenzia sarda per l'energia, questo proponiamo, un indirizzo chiaro e preciso. Io prima dicevo che la Sardegna è sotto attacco ed è sotto attacco perché le multinazionali di tutto il mondo vogliono sostanzialmente rapinarci del nostro vento e del nostro sole. Questa è la cruda verità. Abbiamo una risorsa incredibile, il mondo sta andando verso la transizione energetica, noi vogliamo contribuire alla transizione energetica ma vogliamo decidere noi come contribuire. Una nostra proposta è certamente quella delle comunità energetiche, favorire le comunità energetiche per l'autoconsumo, il che produrrebbe certamente un abbassamento dei costi che tra parentesi voglio ricordare noi paghiamo le bollette più care di tutto lo Stato italiano e non solo, dobbiamo andare verso l'elettrificazione dei consumi perché elettrificare costa di meno. Quindi nessuna ulteriore infrastruttura che preveda l'arrivo e la distribuzione del metano e del gas. Si sta andando in un'altra direzione.